Amici telespettatori, iniziamo questa avventura con il programma Senza Bavaglio, uno spazio autoprodotto, autogestito ed autofinanziato dal sottoscritto. Come recita il nome, il termine, voglio esprimere il mio pensiero e voglio anche che altri cittadini possano dire la loro in assoluta libertà, in assoluta autonomia, appunto, senza bavaglio. Sappiamo bene come purtroppo molto spesso la libera informazione è imbavagliata, la libertà di stampa è calpestata. Una serie di puntate in cui possiamo davvero sentirci liberi e in Italia non è cosa semplice. Ma al di là di questa premessa voglio andare subito in medias res, voglio subito andare al nocciolo della questione. Le immagini che stanno scorrendo in sottofondo, ora mi trovo davanti all'Ilva, nelle vicinanze dell'Ilva, ma le immagini che stanno scorrendo in sottofondo sono state filmate il 13 febbraio e come vedete c'è un fumo nero che si sprigiona dalla cocheria. Dicono gli operai, chi lavora in quell'area, in quell'ambito, dicono che è un fenomeno tipico, un fenomeno che puntualmente si verifica, questo fumo nero si sprigiona ogni qualvolta c'è la produzione del COC. Poi, se colleghiamo i fatti, perché poi alla fine uno più uno fa due, non può fare certo uno o tre, vediamo, abbiamo assistito alla presenza della naftalina nei campioni di urine, esaminati questi campioni nelle donne, in un certo numero di donne, un centinaio, nell'area di Taranto e di Statte. E guarda caso, guarda caso, la naftalina presente nelle urine si sprigiona proprio nella fase di produzione del COC. Un caso? Ma! Una coincidenza? Ma! Sappiamo bene quali sono le emissioni inquinanti nell'ambito della cocheria. Ora, cosa voglio dire? Queste immagini parlano chiare. Vedete queste nuvole nere che sono davvero drammatiche. Immaginate cosa subisce il nostro organismo. E poi ci troviamo le sorprese nelle urine, ma ci troviamo anche le sorprese, tante brutte sorprese, nei nostri polmoni. Voglio dire, sono partito da questo punto, da queste immagini, per andare alla politica del governo, una politica certamente scelerata, che punta in ogni caso alla produzione dell'acciaio, infischiandosene e fregandosene evidentemente di un bene che non può essere in alcun modo negoziato. Mi riferisco il bene salute. Lo stesso GIP, Patrizia Todisco, ebbe a dire, parliamo di salute e parliamo di un bene, di un principio non negoziabile. E allora mi domando, dieci decreti salva Ilva e dieci decreti a Mazzataranto dunque, cosa hanno prodotto? Apparentemente volevano apparire come decreti salva Taranto, ma nel momento in cui vediamo questi fenomeni di fumi neri, ricordo anche quando l'onorevole Pelillo, vedendo le nubi bianche, le definiva vapore acqueo, e quindi innocuo secondo lui, ma voglio dire, dinanzi a questi fenomeni il governo ancora intende arrampicarsi sugli specchi o il governo evidentemente pensa che i tarantini abbiano i prosciutti sugli occhi o evidentemente, peggio ancora, ma mi sembra l'ipotesi più verisimile, la realtà è che evidentemente noi tarantini siamo carne da macello. Vedete, la questione ambientale non è un fatto relativo a Taranto, non è un fatto limitato all'area tarantina, è un qualcosa di nazionale, è un qualcosa di internazionale, perché qui stiamo parlando di interesse nazionale alla produzione dell'acciaio e interesse nazionale evidentemente anche a chiudere gli occhi dinanzi alla muria, alla strage di innocenti che si è verificata e sta continuando a verificarsi a Taranto. Basta sfogliare la cronaca locale e parlando di processi, siamo già nella fase di appello, in stabilimento molto forte la presenza di amianto e ipotesi di decessi in 16 casi. Qui stiamo parlando di decessi accertati o in via di accertamento. Poi c'è tutto un sottobosco in cui purtroppo il Tarantino viene vessato, quel tarantino, quel popolo tarantino che sembra, rimembrando Manzoni, quel volgo disperso che nome non ha, quel volgo che purtroppo deve essere sacrificato in nome di una produzione assassina dell'acciaio. Vedete, io non ce l'ho con l'ILVA, per me l'ILVA va chiusa senza se e senza ma, perché uccide e lo dice la storia, lo dicono i processi, lo dicono le cartelle cliniche. Diversa è la situazione in Germania o in altri paesi in cui riescono a convivere grande industria ed ambiente. Qui parlare di ecocompatibilità è solo una fantasia, una fantasia falsa e perniciosa, perché giocata sulla pelle del cittadino, sulla pelle del Tarantino. E allora, ricapitolando, guardiamo di nuovo queste immagini, guardiamo il fumo nero che si sprigiona, che gli operai dicono sprigionarsi ogni volta che si produce il COC, poi la naftalina nelle urine, la presenza di naftalina nelle urine. Torneremo in una delle prossime puntate su questa vicenda scoperta per caso in uno studio in cui si cercava di trovare il nesso tra i fattori inquinanti e la patologia dell'endometriosi. E così, come un coniglio che esce dal cilindro, così si scopre la naftalina. Naftalina che è catalogata come pericolosità tra i possibili cancerogeni, anche se, e ne parleremo in una delle prossime puntate, secondo l'ASL, che evidentemente non si è aggiornata, la naftalina non è ancora definita tra i cancerogeni. Alla faccia, a Taranto, si continua a morire. Buona vita, signori politici. Buona vita, signori amministratori locali. Buona vita, signori parlamentari. Ma che ci state a fare se non riuscite a rappresentare Taranto e a non evitare che in questa città si muoia di ilva e non solo, di ilva e di altre realtà inquinanti, come prima e più di prima. Senza bavaglio, fino alla fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.